Il mister ci mette in condizione di fare il più gol possibile. E sta a noi concretizzare il maggior numero di occasioni. Alcuni gol però li hai fatti quasi in tua iniziativa, cioè con dei tiri tipo l'ultimo oggi. In realtà non è stato un assi, l'hai trovato con un bel tiro. Sì. Quindi diciamo che non è solo la squadra ma è anche la tua inventiva. Sì, diciamo che in questo momento va bene, lavoriamo tanto sinceramente perché è stato sempre un mio difetto in passato magari di accontentarmi al primo gol. Quindi quest'anno sto lavorando più che altro sulla costanza e su continuare, come si dice, a buttarla dentro. Se vantare avanti di questo passo dovresti, oltre che a portare punti al limonese, metterti a fare un buon bottiglio. Scaramaticamente mi tocco. Ecco, però no, diciamo che sono contento. Spero di farne il più possibile. Ovviamente l'importante è portare a casa i tre punti, però se personalmente continuo a aumentare il mio bottino, è tanto di guadagnato. No, se potevo volevo ringraziare lo staff medico perché comunque queste settimane sta lavorando tanto per me. Quindi anche questa doppietta di oggi la leggo un po' anche a loro e oggi c'è la mia famiglia a gran completo.